buonasera mi sono accorta adesso che si è spostata lady ghost a lady ghost è scomparata dritta dov'è rovinare che succede me ne sono accorta solo ora accendendo la cam ogni tanto si muove ma siccome io la fisso più che altro quando faccio il video non me ne ero ancora accorta a parte che stasera sono rientrata tardissimo avevo da rispondere a mezzo mondo vado a fare mille mila cose e io non ce la posso fare dunque comunque a parte la distorsione materiale lady ghost e lady sadako salutano e io invece pure ora seduta un attimo con la mia forma fisica da muratore slavo la sigarina me la merito e siccome non ho avuto il tempo materiale di sedermi un attimo pensare ragionare a un argomento importante di cui discorrere mi butto sulla botanica magica che tanto sono sempre spiegazioni paranormali perché fanno parte della caterba dell'esoterismo e della ritualistica di che pianta parlo stavolta non è un albero l'altra volta ultima volta parlato del cipresso la volta precedente avevo parlato del tasso ho parlato anche in un altro video del palo santo oggi invece parlo di una pianta che è l'anice stellato è una pianta che io amo in maniera particolare anche perché ha un aroma di anice leggermente liquiriziato che mi piace tantissimo ma oltre al fatto che mi piaccia particolarmente io casa tempestata di anice stellati ma lo tengo anche per i rituali e vi faccio vedere come lo tengo se trovo uno dei boccetti tra lalla trovata la prima e che soffortunata io questo è già se riesco ad aprire il tappo è già separato questi sono i guscetti tutti staccati e separati dai semi in un altro barattolo tutti i semi perché vengono usati per questioni differenti ma andiamo al succo del discorso in tanti principi ah che buono mi è rimasto il profumo di eredità mi autosnifo intanto il discorso che l'anice stellato ha delle enormi proprietà depurative disinfettanti antimicotiche quindi contro i funghi digestive e espettoranti dell'apparato respiratorio e anche vermifugo e la tisana a base di anice stellato o a base di anice stellato e cannella che io non faccio perché io detesto la cannella anche nei rituali se proprio non è estremamente necessaria io non la uso perché mi fa schifo l'odore della cannella il gusto della cannella l'aroma della cannella qualsiasi cosa che sia lontanamente simile alla cannella mi fa ribrezzo però se serve se sa da usare comunque la tisana è un rilassatore ma ha delle proprietà estremamente paranormali l'anice stellato ha una connessione diretta con le informazioni divine divine intendo cosmiche ovviamente non di un dio è l'erba per eccellenza che aiuta i distacchi astrali quindi per entrare in astrale e anche gli input quella sorta di intuizione mi continua ad autosniffare che può essere paragonata a una sorta di premonizione in che modo per l'astrale come ho già detto la tisana con i semi interni lasciati in infusione in acqua calda e poi zuccherato non zuccherato quello è relativo io per esempio se non è zuccherato non bevo niente perché mi fanno schifo le cose senza zucchero a me ma lo zucchero non fa niente si può tranquillamente aggiungere aiuta la connessione alla meditazione astrale la meditazione regressiva il distaccamento in negativo e tutte quelle pratiche diciamo come le posso definire tutte quelle pratiche che hanno necessità di utilizzare i propri poteri psichici e i propri poteri esp come la telepatia e via dicendo mentre invece le buccette di contorno della della parte esterna dell'anice stellato bruciate a modi incenso normalmente o sui carboncini o in quei brucia essenze dove sotto ci si mette la candelina adesso non so se ne ho se ce n'è ancora una da far vedere faccio cascare tutto quello che c'ho sopra che c'ho le mie conchiglie tipo questi che ci si mette la candela qui e sopra c'è altra roba adesso ma e sopra ci si mette invece le buccette o ancora se avete una stufa un caminetto e via dicendo si bruciano all'interno del fuoco vivo il fumo dell'anice stellato essendo legato al pianeta giove ed essendo comunque di natura aria e maschile aiuta ad arrivare in maniera più veloce alle conclusioni e alle profezie in qualche modo non profezie se andrà a piovere o meno in quest'annata di siccità quelli sono oracoli ma quelle intuizioni che ci fanno capire una domanda che non riusciamo a cui non riusciamo a dare una risposta quindi utile per le veggenze su noi stessi e per sentire proprio i pensieri di chi andiamo a collegarci di chi vogliamo sentire è estremamente potente tanto che è sconsigliato da dare ai bambini specialmente in tisana sotto i 12 anni è sconsigliato da bere come infuso sempre o da utilizzare anche negli alimenti nel mangiare in gravidanza e bisogna assicurarsi che sia anice stellato cinese chiamato cinese che è quello alimentare e non l'anice stellato giapponese che invece è semplicemente decorativo e può essere tossico sempre se ingerito a fumi non è tossico neanche quello che altri usi si fanno dell'anice stellato essendo una stella a otto punte è notoriamente un protettore soprattutto della casa in alcune culture si creano delle sculture vere e proprie gli anici stellati incollati tra loro sarebbe meglio con colle naturali cioè con resine naturali o con la resina che si utilizza la resina iposodica non mi ricordo mai che cavolo si chiama che è quella che si usa anche per fare gli orgoni e che funge proprio da protettore dell'ambiente una sculturina una collanina con i fili legati per da appendere a una parete da appendere dove volete in casa è un protettore ancora con un anice stellato intero adesso qua non ne ho li ho tutti in camera perché ho un cestello pieno che tengo in camera perché mi piace il profumo con un anice stellato intero a otto punte e un filo o nero o viola legato al gambetto finale si può creare anche un pendolo veggentico estremamente preciso tra l'altro altre funzioni esoterico occulte paranormali psichiche e via dicendo dell'anice stellato è la protezione personale creata facendo una vera e propria collanina di semi non le bucette ma i semi dell'anice stellato forati e usati come perline un po' come viene usata anche ma quella è per la salute la è il mandala il mandala la sella pesca parlare il mala di rudrasca però il rudrasca è un tipo di seme particolare io ce l'ho per la salute è un seme anche estremamente potente ed è un seme estremamente costoso catacostan rene però il rudrasca è per i bilanciamenti della salute mentre invece la stessa tipologia di mala quindi lo stesso tipo di collanina chiamiamola così sempre fatta in spago rigido di questo tipo semplice però con i semi di anice stellato portata proprio a collana al collo funge da protezione della persona soprattutto da protezioni di tipo energetico quindi se si incontrano dei vampiri psichici se si incontrano persone che ci succhiano le energie se siamo di fronte a dei lavori o delle situazioni ambientali che ci consumano estremamente energia una collanina o un bracciale ma in quel caso lì come questa ha 4 giri intorno al polso quindi devono essere 4 i giri che alla fine devono venire fuori questa è rudrasca non è perché adesso non ce l'ho qua e devo andare a cercare per casa quello dei semi di anice ma il discorso è simile 1,2,3,4 devono venire fuori al polso oppure una collanina al collo con uno spago non elastica o deve essere legata a uno spago per quello che poi è difficile toglierseli però ce la faccio protegge proprio dalle situazioni che ci succhiano energie e anche dalle persone che ci succhiano energie come i vampiri energetici di cui purtroppo siamo sempre circondati per un motivo o per l'altro mmm mi erudrasca oltre a tutto questo l'anice stellato è anche un alimento che dà un sapore speziato leggermente tenente appunto all'anice liquidizia alle varie pietanze fa parte anche delle cinque spezie fondamentali della cucina asiatica aiuta la digestione nel cibo aiuta il lavoro intestinale aiuta tutto l'apparato digerente rituali con l'anice stellato ce ne sono diversi ma in generale viene sempre utilizzato nel periodo autunnale e invernale perché il suo potere vibrazionale è maggiore in quelle due stagioni niente stasera menceppo ve l'ho detto che ho fatto tardi manca un quarto a mezzanotte sto ancora a girare il video questa è la situazione globale dell'anice stellato sia da un punto di vista omeopatico sia da un punto di vista esoterico psichico inoltre il suo aroma anche a livello di olio essenziale da mettere nei diffusori o negli umidificatori dei caloriferi e quant'altro ha un potere estremamente rilassante e spettorante curativo di malattie come possono essere la bronchite la polmonite e la pertosse e tutte le varie malattie batterico virali che siano dell'apparato respiratorio come ultime sue potenzialità è anche un antipediculoso quindi un antipidocchio naturale che si può aggiungere lasciando in infusione dentro uno shampoo neutro per almeno 24 ore e poi ci si lava i capelli ed è un anti è un inseticida cioè o meglio non uccide in realtà gli insetti ma il suo fumo il suo aroma li tiene lontani allontana gli insetti in compenso allontana anche le persone a cui non piace la liquirizia ma quello è un altro discorso molte volte è anche una cosa benevola allontanare qualche persona così a naso che altro dire faceva parte nella leggenda antica dei cinque componenti delle dei sapori magici che potevano sempre secondo la leggenda risanare completamente un corpo usurato devastato con problematiche che andavano risanate i cinque elementi di questa polvere magica veniva chiamata in Asia erano i chiodi di garofano l'anice stellato il pepe di si chuan la cannella e i semi di finocchio erano i cinque ingredienti considerati magici per la pozione della polvere risanante questa polvere veniva pestata a mortaio e poi veniva utilizzata in bevande nell'acqua sui cibi in qualunque modo si potesse ingerire il più sparpagliata possibile il mortaio perché io non so per quale misterioso motivo ma alcune persone non sanno cosa sia ora che mi è venuto in mente che ne parlavamo ora stavo facendo degli impasti vabbè tanto non non devo tra l'altro a base di anice stellato anche questi ma questo è un altro paio di maniche e a base a base anche di noci americane una cosa mia questo è un mortaio questo è un pestello li vendono in marmo ma costano un rene non me lo posso permettere e in legno io ce l'ho in legno è un po' più una rottura di palle stare lì a pestare tanto me ne approfitto e ripiesto un po' perché poi un po' mi è stanco e pianto lì e ci metto una giornata e mezza per fare la polvere comunque si pesta quello che dovete mescolare rigorosamente a mano nel mortaio e finché non diventa polvere sottì ah l'anice stellato mi è venuto in mente proprio di parlare dell'anice stellato perché lo stavo usando in questi giorni per alcune questioni che devo terminare che devo portare a termine e appunto questo era uno di quelli che ho cominciato ieri sera poi non avevo il tempo perché c'era costa più di mezz'ora tritati i guscetti e siccome non ho mai tempo avevo un mullato lì ah che aroma che viene su voi non ce n'avete un'idea inventeranno prima o poi i video che fanno passare anche gli odori non ce n'avete un'idea comunque dopo finisco spero se no finisco domani lo rimetto al suo posto mi era cascato lo statuino dell'antico saggio della longevità mentre ho preso il il mortaio detto questo sull'anice stellato non c'è molto altro da dire come dicevo prima aiuta sensibilmente utilizzato come incenso bruciato quindi spandendo gli odori per i viaggi astrali per la meditazione astrale per la meditazione regressiva in particolare ma può aiutare anche il suo aroma stesso in questo caso anche non bruciato ma anche come oli essenziali anche per la meditazione semplice o per le varie meditazioni trascendentali per kundalini e quant'altro e invece ingerito è un disinfettante sfiammante disintossicante peraltro estremamente ricco anche di oli antiossidanti quindi che fanno anche benissimo alla pelle ai capelli e quant'altro queste sono tutte le sue proprietà sia a livello materiale omeopatico e sia a livello esoterico culto paranormale esp e chi più ne ha più ne metta non c'è nient'altro da dire ora non ne ho neanche uno intero ma tanto lo metto in copertina e comunque penso che l'anice stellato lo conosciate tutti perché ha una forma talmente particolare talmente che ce l'ha solo lui talmente unica che è impossibile non capire cosa sia o quale sia l'anice stellato per stasera il video finisce qua perché sicuramente casco sulla tastiera domani è un altro giorno si vedrà diceva Rossello O'Ara mentre rispondeva in via col vento detto questo qua sotto come al solito tutti i link dei vari social dove mi trovate un po' più sotto ho le pulci un po' più sotto tre o quattro delle mille mille librerie che tengono in vendita i miei libri stanno ancora continuando ad andare e ne sono felicissima i miei vecchi lavori quindi i miei primi sei libri e questo settimo sono riusciti a far fuori tutte le copie che avevo io tutte le copie già inviate alle varie librerie o perlomeno tre o quattro delle più famose mondadori mi pare Amazon e sono sempre disponibili però adesso stanno attendendo le nuove stampe in uno o due giorni però sono già marcati come disponibili perché sono andati via come il pane dire grazie è la cosa più riduttiva di questo mondo ma non trovo termini più elevati per ringraziare più che dire grazie non so cosa dire a volte mi trovo anche in imbarazzo a dirlo perché sembra che voglio far vedere che il mio libro sta andando invece è il contrario è che non mi capacito del fatto che vada così bene ci resto talmente spiazzata che boh lo dico ma perché così perché sono spiazzata io per prima da questa situazione un po' particolare di sto boom esagerato me lo diceva il libro di Silvia Di Menna gli oracoli delle streghe lucenti me lo dicevano anche le carte del destino di Adam Green ma io non sono mai così piena di convinzione nelle mie questioni personali e in ciò che faccio e quindi quando poi invece il riscontro è positivo e come in questo caso stramega positivo non mi pare manco vero comunque non so che altro dire detto questo vi risaluto anche Lady Ghost e Lady Sadako Lady Ghost stai ferma mi salutano e ci vediamo domani se l'universo vuole ciao